Ed eccoci qua ragazzi, ormai è diventato un appuntamento fisso, pausa nazionale, ci troviamo e facciamo un po' di chiacchiere, facciamo qualche discorso sulla Juventus e quello che è successo alla Juventus nell'ultimo periodo, quindi dall'ultima pausa fino a questa. L'altra volta c'era Davom, non c'era Lello, quindi oggi abbiamo cambiato e invece Chino purtroppo è sempre qua con noi e non lo so, lui c'è sempre. Ciao ragazzi, grazie per aver accettato l'invito. Cosa mi dite? È che quasi quasi ci ripenso perché… È una bella introduzione diciamo. Ok, perfetto. Belle introduzione le notazioni, dai, adesso manca Chino e la prossima… La prossima fate te e Davom. Ma la prossima… ma tutte e quattro? No, la prossima è un appuntamento anche abbastanza importante. E tra l'altro è alla fine di dicembre praticamente la prossima pausa. Sì, casca proprio con quel periodo lì, a meno che non decidano effettivamente di fare questa Supercopy il 22, ma… Eh, a quanto pare no, eh, si va verso l'invito. Sì, aspettiamo conferma. Vabbè, questo è un problema dei Kinosci, Toselli e Colpo Gobbo del futuro, non di quelli del presente. Come sempre ci sono i canali dei ragazzi taggati nella descrizione di questo video. Fate un salto anche sui loro canali perché quotidianamente, al mio pari, pubblicano, sporano tanti contenuti interessanti. E dato che l'altra volta non c'era Lello ma c'era Chino, Io, Chino, ti rifaccio la stessa domanda, anche se tu eri stato già molto, veramente, previdente. Avevi visto il futuro. No, era anche una mezza gufata in realtà, solo che purtroppo la situazione non era delle migliori. Adesso probabilmente è ancora peggio, però dato che so la domanda, prego. Allora, la domanda è la seguente. Firmeresti oggi per arrivare nelle prime quattro, per vincere Coppa Italia e Supercoppa e quindi rinunciare definitivamente al discorso Scudetto, secondo posto, terzo posto, arrivi nelle prime quattro, quello che è. L'altra volta, in realtà, devo dire la verità, c'era anche il discorso Champions. Io lo vorrei lasciare fuori, in questo momento, il discorso Champions perché non è che possiamo rassegnarci a tutto. e quindi ad oggi firmeresti per le prime quattro e due trofei? Io l'altra volta avevo detto di no, avevo ancora lo Scudetto in testa. Ad oggi io firmo, devo dire la verità. Però ti ricordi anche quello che dissi. Te volevi un percorso. Ecco, firmo se però c'è anche una costruzione, no? Delle fondamenta che ti possano dare la possibilità di guardare al 2022-2023 con un occhio di fiducia che in un qualche modo esula dal calciomercato che quello è imprevedibile ad oggi come lo era un mese fa. E ti dico, adesso ci metto anche una rasata zero, ecco. Se prima mi limitavo a firmare basta, adesso… Attenzione, attenzione. Lello, te che la rasata zero ce l'hai? Firmi, tirasi di più? Cosa vuoi fare? È una firma colpo gobbo. Ficca, ma quando l'ha fatto questo? Ora. Non l'abbiamo visto. Infatti la firma del merda perché la firmavo senza vedere e sembra molto elementare. Sì, firmo perché il mio timore è quello di non arrivare fra le prime quattro con questo andazzo. Serve qualche svolta, serve qualcosa, però ad oggi ti dico firmo. Io ho fatto, qualcuno se si vede il canale, la prediction che ho fatto, ho messo prima la Juve, ma c'era ancora un Ronaldo in squadra. Beh, certo. C'eravamo da Davom anche, esatto. Però io adesso vi dico questa cosa, firmando ora, noi stiamo dicendo che ci va bene, e bene o male nelle prime quattro ad oggi significa quarto posto, perché Milan-Napoli e Inter sono su. Stiamo dicendo che al 9-11 andiamo a firmare una replica precisa esatta della stessa stagione che aveva fatto Pirlo l'anno scorso, che avevamo definito fallimentare, ma con Allegri in panchina, e non Ronaldo, ma Locatelli, che anche qua torniamo in quel discorso che avevamo fatto, chi non ti ricordi. Quindi vuol dire che ad oggi ci andrebbe bene replicare quella che negli ultimi decenni è stata la stagione peggiore della Juventus. E saremo contenti a fine anno di questo. Poi c'è il discorso Champions e ci arriviamo dopo. È grave questa cosa? Secondo me sì. Secondo me è molto grave. È grave. È grave? È grave. È più grave pensandoci a questa cosa che... Perché prima magari dici ad oggi il quarto posto mi andrebbe bene, due trofei... È più grave pensando che firmiamo per rifare la stagione l'anno scorso? Secondo me sì. Sì. Guarda, qui secondo me torna ancora più utile il discorso appena fatto. Firmi per una cosa grave, ma se ti dà la certezza che dall'anno prossimo avrai una Juve che è la Juve perché magari nel corso di questa stagione si acquisisce soprattutto quella testa necessaria per essere alla Juventus guarda, è il solito discorso di prima. Ti hai detto una cosa estremamente giusta ma è quel sacrificio che ad oggi anche per forza di cose sono disposto a fare. Altrimenti i ragazzi sono cazzi. Io non avrei mai pensato, eh, da quando è tornato Allegri, anche la campagna acquista, ma anche quando va via Ronaldo, io lo dico tranquillamente, l'obiettivo è il quarto posto, ma mi auguravo, mi aspettavo di essere già più dentro la classifica a questo punto della stagione. Non avrei mai immaginato una situazione così disastrosa. Io sto analizzando tanti numeri in queste regioni sul canale e veramente mi metto nelle mani dei capelli perché dato che non mi sono ancora rasato per via della scommessa che non ci siamo, eh. Ma sai soprattutto anche qual è secondo me un discorso che può reggere e che tu hai riassunto alla perfezione quella che è la situazione delle prime tre. Comunque va bene che magari Lazio e Roma sono in una situazione di incertezza più o meno se vogliamo fare una sorta di similitudine, di un paragone con la Juventus. Il problema è che l'altra è l'Atalanta, una squadra che al momento ha fuori anche diversi giocatori importanti come Gose, Satebor, Toloi. Io ci aggiungo anche lo stesso Pessina che a partiti in corso comunque non è un giocatore da ridere. No, ce li ha i suoi bonus e i suoi gol ce li ha Pessina. E soprattutto ha delle idee che sono ormai parte integrante del progetto Atalanta. E sai che è una squadra che magari da un certo momento della stagione in poi inizia ad ingranare e non te ne perdono una. E mo' lì? Infatti noi siamo continuamente qui a ripeterci questa filastrocca. La prossima partita, il prossimo filotto di partite è importantissimo. Io di solito ne parlo con la mia ragazza e tutte le volte mi dice ma come è sempre importante la partita che gioca la Juve? È certo perché ci mettiamo in difficoltà da soli. Perché se poi facciamo bene Roma e Inter e facciamo quattro punti in quelle due partite ti fai Sassuolo ed Ella se ne prende zero. Ora io vi faccio una domanda secca. Dato che le prossime tre sono Atalanta, Fiorentina e Chelsea. È una cosa positiva o negativa? Atalanta, Lazio e Chelsea. Scusa, Atalanta, Lazio e Chelsea. Scusa, perdonami. Atalanta, Lazio e Chelsea. È una cosa positiva o negativa? Ma allora, secondo me queste partite cambiano un pochettino radicalmente quello che è l'approccio della gara stessa. Perché la Juve con le grandi, se guardi anche Napoli ha fatto una fatica bestia con noi nonostante fossimo decimati dalle assenze. con l'Inter, tutto sommato abbiamo strappato un pareggio così. Qualcosa l'abbiamo racimolata perché là ci va a forte motivazione. È inutile raccontarcela. Questa squadra ha preso punti con le piccoline. Cosa succede, Kino? Boh, mi stanno chiamando. C'è uno sconosciuto, c'è un numero vero sconosciuto che mi ha chiamato tipo quattro volte. Rispondi, rispondi. Mutati così, Lello, intanto. Pronto. Succede anche questo. Vai, Lello, dici tutto. No, dicevo che l'approccio a queste gare è sicuramente differente. La cosa che, tornando un po', riallacciandomi al discorso che ha fatto anche Kino, eccetera, io vedo, tu hai parlato di numeri, meno 30 gol con Ronaldo l'anno scorso e non siamo riusciti a rimpiazzarti. Ed eccoci qua. La verità è questa. È stato il mio timore. Una volta che abbiamo ceduto Ronaldo, bene, siamo felici, possiamo riprogrammare, abbiamo un ambiente secondo me più idoneo forse a ricostruire una mentalità da squadra, però dal punto di vista dei numeri, non sbagli, se vogliamo fare un'analisi tipo baseball, dove tu vai a vedere i numeri secchi, freddi, c'è poco da stare tranquilli. Ma quindi è positivo o negativo avere queste tre partite? È positivo perché noi con la forza dell'attenzione, con la preparazione a queste partite, non abbiamo cannato. Non abbiamo cannato. Sai secondo me perché è veramente positivo? Perché sono scontri diretti di squadre che ti stanno sopra e ti sei giocato già una marea di jolly, ma adesso hai l'occasione miracolosa, perché è un miracolo questo, adesso dopo la sosta avere queste partite qua, in cui se vinci queste due partite qua, però le devi vincere, non è che possiamo più pensare, beh, un punticino a Roma, un punticino a Bergamo, adesso non mi ricordo dove è in casa, dove no, però tante volte con i big match facciamo questo ragionamento, adesso il punticino, il San Puntino non c'è più, perché tutto quello che devi recuperare, cioè quelle partite valga in sei punti, a parte questo dello scontro diretto, che è una cosa che condivido, è che ovviamente ci deve motivare, ipermotivare anche direi, abbiamo anche secondo me, rispetto agli inizi, preso atto del fatto che ci siano certe squadre che sono anche dei boomerang impazziti, che possono togliere punti, ma anche a destra, questa è una cosa anche positiva in vista di un'eventuale spinta per queste partite, per cui queste dobbiamo approcciarle bene, consci anche del fatto che le grandi squadre che stanno fallendo poco, qualcosa per strada la lasceranno, arriverà poi un momento critico per tutte, vediamo poi come lo affronteranno. Allora io vorrei, dato che siamo ancora in tema campionato, passare a parlare degli expected goals, tra l'altro, gli expected goals, vi ho mandato una tabellina che adesso proviamo a mettere in sovrimpressione, questa che cos'è? Questa è un po' una tabella riassuntiva di tutte quelle che sono state le partite da Juventus in campionato, partita nella prima colonna, gol fatti, gol subiti, expected goals fatti e quelli subiti. Cosa possiamo osservare da qua? Possiamo osservare che, vabbè, la cosa principale, noi abbiamo fatto 16 gol, in non mi ricordo, 12 partite, e ne abbiamo subiti 15. Già questi sono dati tremendi per la Juventus. Avremmo dovuto farne, secondo la statistica degli expected goal, 20 e avremmo dovuti subirne 14-42. Quindi direi che sotto la fase difensiva ci siamo beccati quello che ci meritavamo, quindi zitti muti, questo era quello che ci meritavamo. Davanti, invece, avremmo dovuto realizzare più gol che con quelle occasioni che abbiamo creato non si sono tradotti in rete, vuoi per i tanti pali anche, secondo me è tanto anche per l'imprecisione sottoporta. Qua si apre un altro dibattito. Io ho fatto coming out, per quanto sappia la situazione del centrocampo, quanto sia evidente la situazione del centrocampo, veramente tremendo, ad oggi comprare una punta, se dovessi scegliere uno delle due a gennaio. Quello è il mio primo acquisto, poi qua non so come la pensate. La cosa che mi fa veramente impressione è vedere come contro Napoli, Milan e Inter, ora Napoli teniamolo da parte, perché l'abbia detto prima, l'Ello eravamo decimati, ma contro il Milan e contro l'Inter, expected goals subiti, 1-0-5 con il Milan in casa, è 0-96 San Siro. Non abbiamo mai rischiato niente, con la Fiorentina, non abbiamo mai rischiato niente. E però, sotto il profilo offensivo, l'unica volta che ci siamo avvicinati ai due, o superati i due, e spezia il Samp quando effettivamente ne abbiamo fatti tre, ma anche se non ci meritavamo di prenderne due, ne abbiamo presi due. Quindi quando abbiamo provato veramente a giocare all'attacco, abbiamo subito anche più del previsto, ma abbiamo raccimolato bene o male quello che ci meritavamo. Come la spieghiamo questa statistica degli expected goals? Magari ricambiamo schermata. Tra l'altro io mi sono anche informato sugli expected goals, come vengono valutati. E per esempio, per quanto riguarda i calci di rigore, un calcio di rigore è 0,76. Perché? Come si calcono gli expected goals, con praticamente tiri presi in esame nei maggiori cinque campionati europei, e si parla di migliaia di tiri, e in base a quello che è l'esito la maggior parte di quelle volte, per quanto riguarda quel genere di tiri, si sa con quale percentuale finito importa. Quindi già per esempio, per quanto riguarda i rigori, due presi, cioè due a favore e due contro, già lì si parla per esempio di un 1,50 e un 1,50, a grandi linee. La domanda iniziale qual era? No, era dirmi la tua opinione a proposito dei numeri che abbiamo visto. Sì, dirmi la mia opinione. Molto secondo me, in questo periodo della stagione, è anche purtroppo attribuibile a una carenza di un numero nove che ti dà una certa affidabilità sotto porta. Perché per esempio, anche proprio contro il Sassuolo, adesso non mi ricordo quanti erano gli expected goals. Erano bassi, abbiamo fatto un bellissimo primo tempo senza mai tirare in porta, e infatti i numeri traducono che non sei mai stato pericoloso, hai fatto sì un buon giro palla, discreto, ma... E la cosa assurda è che nei primi dieci minuti Morata aveva due volte la palla solo davanti alla porta, ma non ha mai tirato. Certo, perché se non tiri non puoi aumentare l'indice di pericolosità. Che sarebbe stata anche elevata vedendo la posizione da dove avrebbe effettivamente effettuato il tiro. Quindi molto sì, anche riconducibile a quello, come hai detto giustamente te, non so se in queste statistiche i pali vengono considerati tiri in porta. Non lo so neanche io come viene calcolato effettivamente, c'è un algoritmo probabilmente dietro... Secondo me vale, che ne so, magari 0-5, se il rigore è 0-7... Perché per esempio con l'Udinese ne hai presi due, oltre ai tuoi gol fatti, e anche in questo caso non mi ricordo... Erano bassi anche con l'Udinese. L'abbiamo presa anche con la Fiorentina, per esempio, la traversa di Chiesa. Abbiamo preso tipo 4-5 nelle ultime 4-5 giornate di pali traversa. Però ragazzi, che non c'è neanche negli expected goals, giustamente, un ultimo passaggio sbagliato, facile facile, che mette in porta, perché là, secondo me, la statistica sarebbe ancora più cattiva nei confronti della Juve. Sì, perché effettivamente è basato sui tiri in porta. Sì, effettuati. Sui tiri effettuati. Quindi nel momento in cui tu in porta non tiri, fanno fatica a darti... Sì, ma quindi questa cosa peggiora ulteriormente la nostra cosa, perché solo con i tiri dovremmo averne fatti 4 in più. Con i tiri. Se mettiamo che abbiamo anche sbagliato tanti passaggi davanti alla porta, siamo arrivati davanti alla porta, non abbiamo mai tirato, siamo ancora più sterili, significa questo. Ma non viene calcolato quello. ma fondamentalmente, più che la grava ancora di più, secondo me, ribadisce e basta il concetto che tu in sottoporta sei sterile. Sì, nel senso è una statistica che ti fa capire quanto avresti potuto in realtà, ma di fatto che tu in sottoporta non c'hai quella cattiveria che in realtà serve, soprattutto se giochi contro avversari e che alla prima ti purgano è una cosa che purtroppo abbiamo visto senza la necessità di andare ad osservare queste statistiche che ci dà la possibilità di avere solo che delle conferme. C'era un coglione allo stadio per i U Empoli col cartello Gunis Ronaldo. Vorrei sapere adesso cosa ne hai pensato che non facciamo un gol neanche per sbaglio. Quella testa di cazzo là. Che cazzo è Gunis Ronaldo? Ho visto che è diventato un meme virale. La testa di minchia. L'ho visto in tante pagine anche estere devo dire ha fatto poi c'è la faccia da coglione anche proprio una roba incredibile. Anche la sorella di Ronaldo l'ha condiviso. Pensa a te quella testa di cazzo che giro che ha fatto. E parlando di Ronaldo dato che Ronaldo è l'uomo Champions passiamo al punto oh finalmente dopo tanta merda che ci siamo tirati addosso in Champions invece quest'anno è la follia andiamo male in Serie e andiamo bene in Champions. Champions cosa ci aspettiamo da questa Champions? La Champions mi fa incazzare tremendamente a me. Perfetto mi hai detto che dovevamo essere felici invece lei lo ha incazzato. No mi fa incazzare perché la Juve impatta molto bene alle gare anche per esempio l'impostazione che ha dato con lo Zenit un'aggressione alta un recupero palla l'abbiamo fatto quattro gol però secondo me ne potevamo fare altri cinque l'hai expected goal secondo me volavano volavano rispetto alla non ho il dato purtroppo non hai dato ma io ti dico anche col Chelsea secondo me siamo vicini ai due perché là sbaglia Bernardeschi lì vicino alla porta c'è stata qualche azione pericolosa siamo stati pericolosi e il Chelsea è stato inoffensivo inoperoso là davanti e quindi mi fa arrabbiare perché tutta questione alla fine tanto di testa ma anche di fare le cose tatticamente perché non le facciamo con la Fiorentina non abbiamo fatto una mazza fino all'espulsione di Milenkovic e la Juve ha la possibilità fisicamente e per organico di aggredirle un po' le partite non di giocare con questa patia al di là del fatto che segniamo poco e questo è un dato di fatto abbiamo anche con gli expected goal a 20 goal supponiamo che la Juventus non è sterile e riesce a portare a casa tutto siamo dietro comunque la Fiorentina mi pare dal punto di vista del dato e questo è il numero con 20 la superiamo però non è quello il punto ma siamo visti con Roma e la Lazio e questo è il dato quindi la Champions mi fa incazzare perché è una Juve a due facce a me fa incazzare anche internamente la Champions vedere la partita che abbiamo fatto con lo Zenita a San Pietroburgo e quella che abbiamo fatto con lo Zenita a Torino è normale che la devi vincerla soffrendo come un cane sbagliando tutti i passaggi gli stop con quella zucchiata di Kulusevski e a Torino non gli fai vedere il pallone neanche per sbaglio lì secondo me è stata una reazione completamente nervosa dovuta al ritiro però io li metterai il ritiro più spesso se questa però puoi perdere efficacia è chiaro so che non sei serio ma sì ovviamente serve un po' più di cattiveria serve secondo me anche responsabilizzare di più perché ti dico questo anche quando parla Allegri di giovani di vari giovani a me dà quasi fastidio perché pare che nell'essere giovane puoi permetterti di sbagliare e invece no cacchio tu sei un leader della squadra Kiko Chiesa ormai è un leader punto Chiesa però non è un giovane cioè non è più un giovane eh quei giovani quando parla di giovani non sanno cosa significa essere la Juventus lo sanno e che possono anche sbagliare ma tu quelli là li devi responsabilizzare altrimenti nelle partite che canano si nasconderanno sempre dietro l'essere giovani e io ti dico io Kulusevski l'anno scorso l'ho giustificato tanto prima stagione che viene alla Juve seconda di Serie A è un classe 2000 un allenatore che non ha mai allenato ci sta che mi sbagli quest'anno sono già molto più severo stessa cosa con Ken perché comunque Kelly ha già fatto queste cose Caio Orge Pellegrini quest'anno io non riesco anche se vanno non ce la faccio perché loro non hanno mai vissuto la Juve però oggi Kulusevski c'è da pedalare oggi McKennie c'è da pedalare McKennie però spezziamolo no però finalmente io mi ricordo il derby col Torino il titolo del mio video è McKennie impresentabile non mi sembrava neanche un calciatore di Serie A in quel momento lì aveva fatto la prima parte con l'Empoli che lo cambia a fine primo tempo da 4 4 e mezzo quindi finalmente se il ritiro davvero tira fuori sta roba qua ad alcuni questi sono quelli che poi appunto come dice giustamente Tellello responsabilità ci sta dopo una stagione alla Juve è un po' quasi a mezza e ora che possiamo aspettarli giovani ma non per sempre una stagione buona te la do una stagione mezza anche due a esagerare però poi se hai fallito hai fallito c'è poco da fare sì sì occhio che McKennie comunque dal punto di vista di expected goal e queste cose è essenziale può spostare è essenziale a centrocampo un po' può spostare lui Kino Champions cosa mi dici io purtroppo qui sono l'unico che non l'ha mai vista neanch'io neanch'io avevo quattro anni e non seguivo il calcio cosa ho visto vabbè per sei anni l'ho seguita l'ho vista però non è che adesso solo perché siete più vecchi non è che vi dovete per forza sì però eravate nati sì punto apposto l'ho visto ok no no io ho risultato Kino io no ho fatto l'analisi post partita sei anni ma io l'ho visto il video no il VHS più che altro secondo me a prescindere dalla situazione della Juve per quanto riguarda la Champions i discorsi purtroppo sono quelli cioè sono quelli di sempre innanzitutto devi vedere quanto arrivi se primo o secondo poi quanto arrivano le altre primo o seconde chi becchi come ci arrivi come ti vanno gli episodi io dalla Champions non mi aspetto un cazzo mi fa piacere come ha detto Lello che effettivamente sembra di vedere una Juve letteralmente opposta rispetto a quello che siamo abituati a vedere in campionato tranne la piccolissima parentesi con lo Zenit perché se adesso noi guardiamo quelli che sono o il Malmo noi comunque ne fatti tre in un tempo praticamente lei è chiusa dopo 45 minuti in campionato non so da quant'è che non si vede una cosa del genere la Bologna Juve dell'anno scorso dove ci qualifichiamo in Champions sì esatto è vero esatto e anche lì se vai a vedere le statistiche a te che giustamente ti piace anche tanto vedi una caterva di gol fatti e due gol subiti tra l'altro anche come con un autogol che se riprovi altre 3000 volte non ti viene mai c'ha ragione Lello di essere arrabbiato e l'ingresso di Rugani a 10 minuti dalla fine della partita sul risultato di 4-1 dove la testa probabilmente era già completamente a casa e poi fa una buona partita con la Fiorentina e tanto si fa presto 2-1-0 quindi 2-2-5 sono 7 gol subiti 7 gol fatti e 2 subiti 9 9 gol fatti e 2 subiti 9 gol fatti e 2 subiti andando puoi vedere come li hai subiti quei due gol qualificazione con due giornate d'anticipo nel girone della squadra campione d'Europa che contro di te non è mai stata pericolosa neanche per sbaglio adesso però ti provo alla febbre a Londra a Londra ti provano la febbre molto probabilmente sì ma qui è il discorso che ha fatto prima Lello per assurdo la va a fare una partita ancora più bella rispetto a quella dell'andata poi tre giorni una settimana dopo e la salernitana chissà ma infatti adesso per completare il giro di prima delle firme qual è la vostra firma per la Champions nel senso dove volete arrivare in questa Champions fermo restando che firmi per vincerla ovviamente io per vincere la Champions firmo adesso arrivo diciottesimo in campionato quindi mi salvo e vinco la Champions firmo non mi interessa figata in serie B con la Champions no 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 arrivo lo slot successivo la salvezza lo slot primo slot salvezza e vinco la Champions firmo però rimanendo oggettivi su questa stagione questa squadra quello che abbiamo visto da che cosa vi aspettate da questa Champions qual è il vostro la vostra voglia i quarti di finale io voglio i quarti di finale di nuovo quindi top 8 voglio uscire agli ottavi top 8 d'Europa e preferisco beccare due squadre toste ed eliminarne nemmeno una bravo sono com'era perfetto dal punto di vista della programmazione sai Lu se ne butti fuori una ed esci con un'altra forte ci può stare cacchio una competizione comunque dove te la giochi con la top elite e cresce tutto cresce cioè se tu vai fuori col porto non crescono neanche i ragazzi più di tanto se cresci con un City è quella esperienza che secondo me rimane nel bene e nel male con convinzioni perché Allegri all'epoca era un allenatore che ti dava fiducia perché il primo anno vabbè ti fa la finale l'anno dopo con la squadra a rifondare che in campionato sta andando male esattamente come questa in Europa esce col Bayern Monaco è in quella maniera lì l'anno dopo è un'altra finale sono tanti step di crescita che vengono interrotti allo suo ultimo anno è al quarto anno un peccato perché avevi quasi rimasto è un peccato è un peccatissimo perché con i secoli ma non si sa niente però il Real poi con la Champions la vinta quindi non lo puoi sapere e quindi ritornando al discorso iniziale per firmare definitivamente la stessa stagione di Pirlo in Italia più la stagione di Pirlo uguale anche in Europa ma passando il turno sì un qualcosina di meglio in Europa semplicemente passando quel turno nel quale siamo usciti con Pirlo lo passiamo e siamo già soddisfatti per quest'anno qua eh per quest'anno qua sì ma perché io vedo le altre più che sei soddisfatto te lo fai andare bene ho messo una pezza che sembrava irriparabile diciamo così perché secondo me soddisfatto no però però in Europa secondo me in Champions più di così sta squadra cioè se arriva in semifinale nelle prime quattro è un miracolo generale dico quindi è incredibile come quest'anno sia la Champions a farci paradossalmente per quanto sappiamo che questa è la squadra più scarsa per valutare positivamente questa stagione potrebbe essere davvero la Champions che fai un passettino in più rispetto agli ultimi anni disastrosi con la speranza di poterla rigiocare hai capito qual è il problema quindi è un video un po' sorpresa nel senso ogni volta che diciamo una cosa poi diciamo minchia ma l'abbiamo detta davvero stiamo pensando queste cose che ad oggi secondo me sono imbarazzanti perché siamo appunto inizio novembre ma penso che sia giusto essere messi Sembrava il Milan di Allegri vi ricordate quando andava in Champions a giocare col Barcellona e vinceva e vinceva col Barcellona quando in campionato aveva dei risultati alti allenanti sembrava quella roba là però ci arrivava in Champions il Milan di Allegri sì è vero quindi quindi bisogna arrivarci e va bene ragazzi abbiamo toccato un po' tutti gli argomenti io vi ringrazio per la presenza ancora una volta invito gli utenti a visitare i vostri canali come chiudete questo video? speriamo di farmi pelato speriamo di oh chi non sci pelato quindi è ufficiale se succede questa roba qua no però è vero come no l'hai detto te adesso e i fioretti fatti all'ammuzzo no va bene dirò di più chi no sci pelato e con i capelli di chi no sci li mettiamo in testa Lello mamma mia così sembra veramente che mi abbiano lanciato da qualche parte non lo so no io mi auspico che la prossima domanda è firmeresti per il secondo posto significa che siamo magari già un po' quarti terzi no significa che saremo ubriachi al tuo matrimonio e quindi dici Olofi però posso dirti una cosa da tifoso della Juventus dirti sì firmo per il secondo posto mi darebbe una fastidio incredibile e oggi ti ho detto che firmo per il quarto per far capire la dimensione firmare per il secondo posto è aberrante ecco la presa di coscienza è la prima il primo passo per risolvere determinati problemi io credo che quest'anno ma cioè o metti mano a quella rosa là è inutile che stai a cambiare il joypad cambiamo gli allenatori tutti gli anni tutti gli anni cambiamo gli allenatori tutti gli anni ma giochiamo con Rabiot ma i tifosi ricascano spesso bisogna fare l'analisi seria dei giocatori della qualità dei gol che vanno via se volete fare già un'analisi con i numeri avete già un impatto tremendo e si capisce l'assenza di Ronaldo quanto pesa che manca qualcosa lì davanti no ma poi il bello è che dopo tutti gli anni l'anno dopo magari metabolizziamo anche che hanno davvero pagato sia Sarri che Pirlo tante colpe che non erano loro tante che poi in quel momento lì c'è qualcosa ce l'avevano credo più Pirlo poverino che Sarri in realtà secondo me anche Sarri ha pagato tante colpe Sarri però secondo me c'erano anche altre questioni che andavano al di là della questione campo nel senso che è Sarri stesso che l'ha messo questo non stavo bene la Juve bene abbiamo no no vai 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 no no ti dico che con Pirlo secondo me Pirlo ha pagato anche colpe non sue è vero che non abbiamo avuto mai uno straccio di identità nel finale di stagione ci trascinevamo fino alla fine credo che una guida importante possa essere una base su cui ripartire però con la consapevolezza di mettere mano alla rosa altrimenti è tutto vanificato cioè poi ci puoi mettere Pep Guardiola se ha 11 asini rimangono 11 asini la faccio molto semplice non è che ti diventano 11 stalloni da corsa ci tengo a precisare perché sennò so come va a finire quando l'anno scorso no 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 quando l'anno scorso ho fatto il video secondo me Pirlo va cambiato a fine stagione in quel video dico non è più l'unico colpevole i giocatori c'erano già dentro perché so che dopo dalla frase che ho detto hanno pagato tante colpe arriva il tipo che mi dice ecco tu però l'anno scorso hai detto Pirlo Out sì ma non ho detto Pirlo Out perché è satana è tutta colpa sua no non era quello il punto Kino ciao niente ciao beh è una bella conclusione del video mi tira per deliberare il buon Kino ciao a tutti ragazzi e alla prossima ah ragazzi se avete consigli per i rasoi per il buon Kino datevi in direct su Instagram vediamo bene